Lei, sindacalista di aziende agricole, ha deciso di comprare la casa che fu di Sciascia, per quale motivo? Non mi andava l'idea che magari potesse diventare un bed and breakfast o qualcosa del genere. Non che sia scandalosa la cosa, però credo che sia più giusto che questa casa conservi la memoria di Sciascia. Questo è il piano dove Sciascia ha abitato, soprattutto dopo che si è sposato. In questa casa ha abitato fino al 2012 una signora che era, per quanto coetanea di Sciascia, era la zia. Morta nel 2012, dopo qualche anno gli eredi hanno messo in vendita questa casa. La casa è rimasta chiusa e sarebbe stato giusto, loro, devo dire, volevano farla acquistare al comune. Ma non c'è stata questa possibilità. Io ci ho pensato un po', ma avevo anche ricevuto una piccola edità di mio padre che era morto. E ho utilizzato questa somma per dare l'anticipo a loro. E per me era anche una maniera, insomma, anche devo dire di ricordare mio padre che era stato amico di Sciascia. Alcune cose sono state, sono rimaste. In questa casa sono qua negli anni 40, le cose più vecchie sono proprio del 35. Alcune cose probabilmente lui se le ha procurate negli anni, gli servivano come materiale di studio. Cioè riviste di teatro, riviste di letteratura, ma anche riviste di cinema e anche riviste politiche, come Rinascita, che lui ha anche sottolineato. Quanti libri ha portato? No, finora pochi, finora saranno 2-3 mila. Ci sono una parte di cose che riguardano Sciascia, di Sciascia su Sciascia e di autori siciliani. Qui chi viene a visitare la Casa Museo? Ma io credo che da settembre ad ora sono venute penso un 3 mila persone. C'era una cortegra dell'ozio, qualcosa di disordine. E lui ci come ha fatto il sarto? Chi ha fatto il sarto? Qual era il rapporto di Sciascia con il suo paese, Ragalmuto? Lui nel 79, quindi 10 anni prima di morire, scrive questo dall'intervista a Marcel Patovanilla, Sicilia come metafora. Tra le cose che lui sottolinea è il fatto che preferisco vivere nel mio paese. Ma come paese un paese ci vuole? Eh, è la frase migliore che ci esprime, diciamo, come le cose le vediamo a Sciascia.